Allora, andiamo direttamente top lane, andiamo a vedere se c'è qualcosa da fare in questa bella lane E invece, questi roaming nella top lane, penso sia la prima volta che lo faccio in tre anni che gioco Allora, andiamo a vedere se c'è qualcosa di più Allora, andiamo a vedere se c'è qualcosa di più